Presidente, vorrei ricordare ai colleghi che ci ascolta da casa che il Governo ha chiesto la fiducia e in questo momento non c'è nessun Ministro seduto al Banco del Governo ad ascoltare il dibattito parlamentare. Questo, Presidente, è quello che il Governo pensa di una Camera legittimamente eletta dai cittadini italiani. Un Governo non eletto da nessuno che in questo momento chiede la fiducia e si disinteressa totalmente del dibattito parlamentare. Complimenti, Presidente del Consiglio, ancora una volta dimostrato la sua arroganza politica. Presidente, noi e la Lega abbiamo fin dall'inizio mostrato in modo evidente e chiaro la netta contrarietà a questo provvedimento. Si può dire di tutto, tranne che la Lega non abbia detto chiaramente quale fosse la sua posizione. Esiste per noi una sola famiglia, una sola famiglia detta da una società naturale fondata sul matrimonio. Articolo 29 della Costituzione italiana. Purtroppo, anche in questo caso, Presidente, siamo in un'aula parlamentare e molto spesso i colleghi si dimenticano che esiste una Costituzione in questo Paese. Non esiste, Presidente, nessun diritto al riconoscimento pubblico di unioni affettive diverse dalla famiglia. È giusto, secondo noi, potenziare quegli strumenti di garanzia rispetto al godimento di diritti di tutti, nessuno escluso, diritti individuali già ampiamente tutelati. Anche se però in questi giorni ci è stato raccontato tutto il contrario. Il problema è che quel tutto contrario non è stato raccontato da persone non informate, è stato raccontato da persone sedute in quest'aula. Bugie, Presidente, bugie per confondere la gente. È evidente che in questo momento la famiglia è il soggetto debole. E con voi e grazie a voi e per causa vostra da oggi è ancora più debole. Avete messo la famiglia alla berlina, anche agli occhi dell'opinione pubblica, anche agli occhi dell'informazione, anche l'informazione. Molto spesso ha messo la famiglia come qualcosa da deridere, la famiglia naturale come qualcosa da deridere, come qualcosa di ottocentesco. Perché oggi quest'aula, Presidente, non si sta esprimendo su misure atte a sostenere economicamente il primo ammortizzatore sociale, cioè la famiglia? Non stiamo facendo niente per aiutare le famiglie italiane. Quali poteri e quali ragioni impongono al nostro Paese di legiferare su un tema che la stragrande maggioranza degli italiani non condivide e non ritiene urgente? Abbiamo perso tre settimane a parlare di questo argomento, quando in Italia ci sono 10 milioni di italiani sotto la soglia di povertà e il 42% di disoccupazione giovanile. Disoccupati giovani, omosessuali e eterosessuali, persone che hanno come priorità quella di trovare un posto di lavoro per avere un futuro. Noi siamo qua, Presidente, a perdere tempo. Vorremmo sapere cosa nasconde questa attenzione morbosa anche da parte dei media, che informano senza imparzialità, mortificando la realtà. Se sei etero, lo dicevo prima, sei una persona banale. Se hai una famiglia naturale, sei una persona banale. Orgoglioso di essere una persona banale e orgoglioso di essere un papà di un bambino che ha un papà e una mamma. Dopo anni in cui la famiglia è stata vittima di un'aggressione sistematica, non essendo riusciti a distruggerla in maniera frontale, stai cercando di raggiungere questo obiettivo in modo subdolo. Istituire tante famiglie significa annullare il significato stesso di famiglia. L'atteggiamento che abbiamo tenuto è stato un atteggiamento chiaro, chiaro a tutti, tranne che al Partito Democratico, purtroppo. Dodici senatori della Lega, alcuni ci hanno paragonato al villaggio di Asterix, e siamo orgogliosi di questa cosa, hanno messo sotto scacco il Governo e la maggioranza parlamentare. Abbiamo giocato con la vostra paura dei chihuahua, sembravate dei chihuahua, che abbaiavano alla luna, ma nel momento opportuno vi siete tirati indietro. Chihuahua, non i canguri, i chihuahua. Andate a guardare che cosa sono. Abbiamo lavorato perché ciò accadesse con largo anticipo, prima di ogni scadenza, decidendo di presentare 5.000 emendamenti e di presentarli con un giorno di anticipo rispetto alla scadenza fissata, ipotizzando, ma senza temere che la reazione del Governo, attraverso il solito prestanome della maggioranza parlamentare, sarebbe stata quella di orchestrare un tranello per evitare i voti su una materia così delicata. E così è stato. Il canguro Marcucci, che avete messo in testa a tutti noi come la spada di Damocle, che per due settimane ci avete detto che dovevamo fare il patto tra gentiluomini, che per due settimane mi avete minacciato perché c'era quel famoso canguro, e nel giro di pochi minuti quel canguro è andato a farsi benedire. Aggredito da 500 emendamenti, che qualcuno ha paragonato a 500 piccoli koala, visto che parliamo di animali di quella zona. Avete giocato con la nostra pazienza. Questa volta il gioco non ha funzionato. Ha trovato l'ostacolo nel rispetto delle regole dimostrato dal gruppo 5 Stelle, nel momento in cui la Lega si è resa disponibile ad una discussione parlamentare, ritirando, come d'accordi tra finti gentiluomini, finti siete voi, ben il 90% degli emendamenti. Non ostruzionismo, come avete detto in tutte le salse, rispetto delle regole, cosa che voi non sapete neanche che cosa siano. Abbiamo vinto una partita soli contro tutti, per la nostra determinazione abbiamo costretto il Governo con la fiducia a condizionare la volontà parlamentare, contraddicendo, quando più volte è ribadito, che tale decisione dovevano spettare esclusivamente al dibattito e alla coscienza personale dei singoli parlamentari. Io me lo ricordo i membri del Governo fare i fenomeni dicendo spetta al Parlamento, spetta al Parlamento. E poi si sono trovati a dover fare i paladini senza macchie, senza paura. Vi siete dimostrati deboli, avete avuto paura del voto segreto, ma per giorni siete andati avanti a fare i forti e siete andati avanti a minacciare tutto e tutti dicendo che non avevate paura di nessuno. Questo è il risultato. Anche se il Presidente del Consiglio, fenomeno, fa i miracoli, potrà oggi raccontare di essere sopravvissuto alle sabbie mobili parlamentari, in realtà il cammino per l'approvazione definitiva di questo disegno di legge presenta ancora numerevoli, innumerevoli ostacoli. I nostri ostacoli. Né la dimostrazione che oggi nessuno può dirsi vincitore, nelle famiglie arcobaleno, sacrificate alla logica dei biechi interessi di Governo, i vostri, nei fautori della via del compromesso, che per paura di tornare nel deserto della politica hanno rinunciato alla propria coscienza, ma né tantomeno alla democrazia. Grazie a noi, anche se altri oggi hanno il coraggio di volersi attribuire i meriti, è stata stralciata la parte più aberrante, quella che anteponeva il desiderio di genitorialità rispetto ai diritti dei bambini. Avere una mamma e un papà, non un genitore uno o un genitore due o due persone che non si sa che cosa siano. Siamo però consapevoli che quello che non scriverà oggi il legislatore potrebbe essere imposto dalla giurisprudenza, perché l'ipocrisia del testo non esclude e non prevede esplicitamente di mettere al bando la pratica disumana dell'utero in affitto e lascia spazio eccessivo a interpretazioni da parte di magistrati in materia di adozioni. Cari colleghi del nuovo centrodestra, non avete ottenuto niente, non avete ottenuto niente. Ridicola la decisione di togliere l'obbligo della fedeltà. L'avete paragonato l'unione civile a un matrimonio e di conseguenza doveva rimanere l'obbligo di fedeltà. È troppo bello avere i diritti e non avere i doveri. Senatori in questi giorni che assicuravano alle coppie al Cobaleno voteremo solo se ci sarà la stepchild. E adesso che cosa farete? Senatori che al Circo Massimo al giorno del Family Day avevano fatto delle promesse alle famiglie del Family Day. Giuda venduti per 30 denari. A chi sta fuori, ha quasi finito, Presidente, diciamo guardate bene dopo le facce di chi ha promesso e le facce di chi ha tradito. Noi siamo coerenti. Abbiamo detto no dall'inizio e non abbiamo cambiato idea. Gli altri sì. Siamo solo all'inizio, Presidente. Il Partito Democratico promette che le adozioni saranno introdotte in una nuova legge. Cari colleghi del PD, noi ci saremo. Saremo qui a difendere i bambini e saremo qui a difendere i diritti dei bambini e saremo qui a fare le barricate e le nostre barricate saranno alte come grattacieli perché i diritti dei bambini devono essere difesi e voi non lo state facendo. Termino, Presidente. La vostra vittoria, Presidente, è figlia di un'unione civile poligama in linea con la decisione di togliere l'obbligo di fedeltà. L'unione civile, Renzi, Alfano, Verdini, i maestri dell'infedeltà, politica di questo Paese. Vergognatevi!